Torna la sedia alla villa, tre giorni di festeggiamenti in stile rinascimentale con una conferma. L'arrivo della carrozza della principessa Giovanna d'Austria è di una novità, il primo rione dei tornei. L'appuntamento è appoggio a Caiano dal 16 al 18 settembre. Abbiamo riportato la carrozza che era diverso per un periodo che non faceva più parte dell'organizzazione. Poi ci sono le solite iniziative, poi per la prima volta quest'anno ci sarà il palio dei rioni che verrà fatto per la prima volta con dei giochi rinascimentali, con la partecipazione di tutti e cinque rioni di poggio a Caiano e con in palio questo bellissimo palio offerto dalla nostra artista Anna Maria Guardieri. Nei tre giorni di festa, anche per questa edizione è previsto un billetto d'ingresso, il programma è ricco di eventi che ruotano intorno alla villa Medicia, patrimonio dell'UNESCO. Questa festa rinascimentale di tre giorni che vede larga parte del centro storico valorizzato da tante iniziative. La villa Medicia di Poggia a Caiano che sarà non soltanto scenografia di spettacoli ma anche l'occasione appunto di approfondimenti, di visite.